praticamente il tentativo è passare dalla velatura di fa una mezza acrobazia perché passo dalla velatura questa è una velatura diverte smeraldo su una preparazione a terra d'ombra bruciata la sottopittura e terra d'ombra bruciata siccome questo è un lavoro veramente lungo sto cercando di vedere se riesco a fare una specie di acrobazia cioè passare dal colore completamente trasparente della di questa velatura che adesso per adesso la fermo qui poi questo non lo fate io oramai sono vecchio quindi mi possa avvelenare allora l'idea è appunto passare da dalla velatura dato che qui ce ne vorranno una cinquantina di villa di velature passare direttamente a una mezza pasta e addirittura a una pasta coprente vediamo se ci riesco ma questa fin qui è velatura magari anzi quasi sicuramente sto inventando l'acqua calda e cioè qualche qualche collega più scafato mi direbbe che aveva scoperto l'america e qui ci sto qui ci sto qui perché se riesco adesso passiamo a una un passaggio semicoprente un passaggio semicoprente per l'acqua calda e per l'acqua calda e per l'acqua calda e per l'acqua calda e chiaro che questo è troppo forte per l'acqua calda e 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 come fosse un'icchia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.